Tudor Classic, l'orologio svizzero dal design senza tempo e dalla qualità impeccabile. Il Tudor Classic è uno dei modelli più famosi e apprezzati del marchio Tudor, che nasce nel 1926 come un'alternativa più accessibile ma altrettanto affidabile agli orologi Rolex. Il fondatore di Tudor è infatti Hans Wilsdorf, lo stesso visionario che ha dato vita al marchio Rolex, il più noto al mondo nel settore dell'orologeria di alta gamma. Il Tudor Classic è un orologio che si distingue per il suo design sobrio e raffinato, che lo rende adatto a qualsiasi occasione. La cassa è pulita e armoniosa, il quadrante è semplice e leggibile, gli indici sono eleganti e discreti. Il quadrante, disponibile in varie colorazioni, presenta il logo del marchio Tudor a ore 12, ovvero lo scudo simbolo della famosa famiglia reale inglese da cui il marchio prende il nome. Lo scudo funge anche da indice per le ore, insieme agli altri indici a bastone. A ore 6 è ben visibile la scritta Rotor Self-Winding, che indica che l'orologio è dotato di un movimento a carica automatica, che si ricarica con il movimento del polso. Subito sotto sono presenti le scritte 100M, 330 piedi, che attestano la resistenza all'acqua fino a 100 metri di profondità. Il Tudor Classic dispone anche della funzione della data, visualizzata a ore 3 tramite una finestrella che indica i 31 giorni del mese. La caratteristica più distintiva del Tudor Classic è però la lunetta a coste, composta da una serie di dentelli dalle finiture diverse che si alternano tra satinate e lucide, liscia o con pietre preziose. Tutti gli orologi Tudor Classic sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, che garantiscono una precisione impeccabile. I movimenti sono certificati dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, lente che verifica e attesta la precisione e la regolarità dei movimenti orologeri. Inoltre, Tudor utilizza per questo modello materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, l'oro giallo e il vetro zaffiro, che assicurano la durabilità e l'eleganza dei suoi orologi. Con la sua storia leggendaria, il design classico e la qualità impeccabile, il Tudor Classic è una scelta ideale per chi cerca un orologio che unisca stile, precisione e affidabilità.